vi do un consiglio ragazzi quando perdete un po la pressione nel senso che l'uccello o avete dato tanto andate fuori fiato riposatevi mettetevi in 69 fatevi fare il rasti trombone perché avete una doppia sollecitazione sotto e sopra sull'uccello il cazzo diventa il doppio più duro e partite subito a 10.000 ve lo dico almeno vi faccio così poi rasti trombone rasti trombone rasti credo che viene dall'idea del rasti cioè ruggine secondo me il trombone perché c'è il cazzo suoni la tromba quindi suoni la tromba attraverso il rasti rasti è un pensiero del colore del culo che potrebbe essere marrone perché si spera che non sia mai sporco e noi ci puliamo almeno quello lo possiamo dire però nell'idea del rasti perché se no perché si chiamerebbe rasti e l'uomo ti si mette il 69 però in realtà poi si mette seduta su di te ti schiaccia il viso col culo in faccia e tu gli fai una sega mentre gli lecchi il culo tipo ruggine polvere di ruggine che tra virgolette ragazzi fate schifo avergli dato sto nome cioè polvere di ruggine non lo so non so chi cazzo l'ha trovato sto nome rasti arrugginito vedi james wesker ragazzi mi dite chi di voi c'è chi se l'ha inventato sto nome perché fighissimo a me piace molto il rasti trombone perché a